Il governo italiano nel fine settimana, ieri sera, abbiamo visto, credo tutti, il Premier Conte via Facebook a reti unificate stringere ancora di più le maglie. Il lockdown è quasi chiusura totale di tutte le attività produttive, tanto che i sindacati sono sì preoccupati da una parte naturalmente per il lavoro, ma contestualmente dicono che sono ancora troppe le fabbriche aperte e quindi per mercoledì hanno annunciato uno sciopero. Allora, il Premier Conte ha chiuso troppo, ha chiuso troppo poco o troppo tardi? Lili Gruber, Conte ha fatto quello che doveva fare, lo ha fatto commettendo degli errori, arrivando qualche volta in ritardo, ma io faccio via la frase che è stata detta. Giuseppe Conte, che mi ricordo solo pochi mesi fa era andato al governo avendo ai lati come Pinocchio, i due carabinieri Di Maio e Salvini, sta facendo cose che nessun Presidente del Consiglio dal 1948 a oggi ha mai dovuto fare. Quindi che ci siano delle incertezze, degli errori e dei ritardi è nell'ordine delle cose. Su questo non si può discutere. Sono del resto d'accordo 100% con quello che ha detto Scansi e insomma che delle persone che hanno dato prova di non autorevolezza ma autoritarismo quando sono stati al governo, come Salvini, Ministro dell'Interno, parlino oggi di ma deriva autoritaria fa un po' ridere. Tutto ciò detto, l'unico punto politico che a me pare importante e da discutere è quello a cui accennavo prima e cioè il Parlamento. Conte ha agito praticamente da solo col Consiglio dei Ministri per decreto. È arrivato il momento, lo chiedo perché non sono tanto sicuro della risposta, è arrivato il momento in cui Conte deve rendere partecipe anticipatamente delle sue decisioni il Parlamento e se la risposta è sì, come facciamo a riunire con la distanza sociale che Lilly Gruber ricordava poc'anzi, come facciamo a riunire le Camere in quello spazio? Dato per ipotesi che arrivino tutti gli aventi diritto e cioè mille persone praticamente. Ma quello però è escluso Corrado Augas, sarebbero contingentati, avrebbero percentualmente i vari partiti, i gruppi, un numero ma più piccolo dei loro rappresentanti in Parlamento. Il Parlamento europeo ci ricorda anche oggi che lì sono già in grado di votare online, quindi questa forse usarebbe... No ma questo non si può fare, questo non si può fare, bisognerebbe allora annunciare con le dovute forme che se il Parlamento, se la Camera, parlo della Camera perché è quella più affollata, se la Camera dei Deputati si riunisce, si riunisce pro quota, avete 200 deputati, ne vengono 20 e si siedono a distanza, avete 100 deputati, ne vengono 10. Non so, è un modo questo di risolvere la questione, ma prima ancora c'è l'altra domanda che avevo posto e perché non ho la risposta. Bisogna riunirle le CAM, bisogna riunire il Parlamento o è bene che Conte continui per un altro po' nella fase di emergenza fino a che non si tocca il famoso picco ad agire come ha agito finora e cioè con la ragionevole cautela, tenendo quell'equilibrio pazzesco tra i diritti alla salute da una parte e il dovere di continuare in qualche modo a produrre dall'altra per non trovarsi a emergenza finita in condizione veramente critica. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, molto chiaro Andrea Scania.